I contagi sono in aumento nella nostra regione anche perché nel periodo delle festività natalizie ci sono stati soprattutto fra i giovani comportamenti troppo disinvolti. E' duro il commento del virologo Paolo Fasi che teme le conseguenze della terza ondata. Quello che si paventava probabilmente è successo, francamente mi è sembrato anche di vedere andando in giro per Pescara nel periodo appunto natalizio un atteggiamento diciamo non conglo. E ovviamente i giovani non possono avere come posso dire la stessa concezione di malattia o di morte che può avere una persona insomma matura, adulta perché a quell'età si pensa di essere immortali. Però tutti, soprattutto loro, devono cominciare adesso a ragionare in termini diciamo propositivi il fine è sicuramente quello di non far circolare il virus. Se si va in giro per strada senza maschera, se ci si apparta con un gruppo di amici a bere la birra senza mascherina, cosa che ho visto fare purtroppo, ovviamente il virus circola. Inoltre purtroppo ci si trova nel periodo più freddo dell'anno, quindi gennaio e febbraio e questo è un virus da raffreddamento, è un virus che si replica meglio e soprattutto riesce a raggiungere più facilmente i bronchi e i polmoni appunto quando c'è freddo. Il medico dell'ospedale di Pescara, così come dichiarato ai nostri microfoni nei giorni scorsi, ha poi ribadito la sua contrarietà alla riapertura delle scuole motivando il suo pensiero. Secondo me la giusura delle scuole impedirebbe la circolazione del virus, cioè è un qualcosa di talmente pacifico che poi però ovviamente ci sono altre dinamiche, c'è la politica che decide. Io come medico secondo me il mio compito precipio è la tutela della salute, della salute altrui, la mia, dei miei cari, di tutti. Quindi per me ovviamente meno si fa circolare il virus e meglio è. Ovviamente la scuola è un momento di aggregazione importante, fondamentale, perché sappiamo benissimo che l'aspetto diciamo legato all'insegnamento, alla scuola, alla cultura, è un qualcosa veramente fondamentale per la crescita di tutta la nazione, ovviamente soprattutto di chi si trova in una fascia d'età dove è più facile anche apprendere nozioni ed è fondamentale appunto per la crescita di tutta la nazione. È un qualcosa anche questo di pacifico che non bisogna sottolineare. Io penso che chiudere per qualche mese, soprattutto in questo 2021, non comporti nulla di grave, però torno a ripetere, io sto parlando da medico, da cittadino potrei anche invece ragionare in maniera diversa.